Un risveglio gelido per l'Appennino con temperature sotto lo zero, mentre domani potrebbero arrivare anche nuove perturbazioni, con copiose nevicate fino a quote particolarmente basse. L'Appennino intanto fa i conti con temperature estremamente rigide e abbondantemente inferiori agli 0 gradi centigradi. E ci sono state alcune località di medio-alta quota che sono scese all'alba stamattina su valori addirittura prossimi ai meno 30 gradi, a conferma che l'inversione termica notturna ha dato davvero il meglio di sé, complice anche le stiarite subentrate nella seconda parte della giornata di ieri. Piani di pezza, ad esempio, ha toccato i meno 27,8 gradi, classificandosi come area più fredda di tutto l'Appennino. A seguire Campo Felice, nell'Aquilano, con meno 23,6 gradi, Rocca di Mezzo, con meno 14,8 gradi e altre località, tra queste anche Ovindoli, con meno 10,1 gradi. Sotto lo zero, anche al lago di Campotosto, meno 7 gradi, Pescasseroli meno 7,8, Rocca di Cambio meno 6,4, Fontavignone meno 7,1, ma anche Santo Stefano di Sessanio ha fatto registrare una temperatura al di sotto dello zero, meno 8,7.